buongiorno sabato 28 marzo molte suggestioni attraversano la coscienza in questi giorni e soprattutto molti inviti indiretti o diretti a coltivare la speranza in un tempo che sembra segnato da un affievolimento della speranza che sconfilla in molti nella disperazione che significa perdere il senso della fecondità della vita la gioia del poter contemplare la natura nella sua misteriosa bellezza e anche a volte nella sua incomprensibile tragicità ieri il papa nella sua benedizione col bietorbi in piazza san pietro vuota con una forza simbolica straordinaria ha presentato un passo del vangelo di marco nel quale i discepoli si trovano nella barca in una tempesta che rende molto pericolosa la situazione mette a rischio la loro sopravvivenza e Gesù cosa fa dorme dorme nella barca e naturalmente i discepoli spaventati lo richiamano e usano un'espressione che è di turbamento per chiunque nel senso che ma come tu dormi non hai a cuore la nostra esistenza il nostro destino non ti stai preoccupando e Gesù che cosa fa gli richiama alla fede dunque Gesù cos'era una persona che sottovalutava il rischio e il pericolo nella evidenza della tempesta era una persona che risultava indifferente agli altri assolutamente no ovviamente ma richiamava alla vera fiducia al vivere anche nei momenti di maggiore intensità drammatica della vita nella chiave di lettura caratterizzata dall'apertura del cuore alla speranza cosa che oggi a me sembra stiamo facendo molta fatica a riuscire ad applicare anche noi siamo quei discepoli che in qualche maniera richiamano nella fattispecie che so io la scienza coloro che apparentemente sanno a soccorrerci a definire che cosa dobbiamo fare e giustamente Gesù invita a avere fede certo che se oggi qualcuno sollecitasse i presunti sapienti a dire qualcosa di utile e di salvifico il fatto che questi dicessero abbiate fede verrebbero irrisi e annoverati in quella categoria che è rappresentata dai sottovalutatori, dai superficiali voi sapete che c'è stata e c'è una polemica sottotraccia tra chi accentua la pericolosità della situazione e chi viene percepito come colui che invece non riconosce la pericolosità della situazione oggi richiamare all'ordine ecologico sottolineare come la infezione è solo una parte di un problema più complesso del quale ci si dovrebbe preoccupare ancora di più viene interpretato dalla ortodossia della paura come un ragionamento fuorviante e che porterebbe le persone a non concentrarsi su ciò che è necessario concentrarsi cioè sul virus è capitato anche nelle nostre esperienze quotidiane di incontrare persone che ci tengono a sottolineare la centralità dell'infezione e qualsiasi ragionamento che non voglia tagliare la realtà attraverso la semplificazione con il rasoio di Ockham il rasoio di Ockham si riferisce a un religioso del passato che si inventò questa soluzione che di fronte alle soluzioni complesse quella più vera è quella più semplice ovviamente non è vero, non è assolutamente così quindi chiunque osi mettere in discussione questo assioma viene immediatamente dileggiato, viene considerato una persona irresponsabile credo che ognuno di noi ha avuto in questi giorni quando ha cercato di aprire alla complessità la sorte di venire classificato tra gli irresponsabili e le persone che non vogliono assolutamente accentuare questa dimensione della paura e dell'angoscia tra l'altro accentuare la paura e l'angoscia significa mettere in difficoltà gran parte dell'umanità e soprattutto quella parte che non ha le disponibilità e le ricchezze di chi invece sembra essere molto più teso verso la focalizzazione sul virus piuttosto che sulle dimensioni sociali, politiche e economiche e anche di organizzazione sanitaria che hanno fatto sì che questa infezione stia producendo danni colossali ma non solo nell'immediatezza ma anche nel medio e lungo periodo perché questo virus ha trovato una umanità che ha irresponsabilmente devastato l'ambiente ha creato le condizioni per rendere ancora più fragile la naturale fragilità degli esseri umani e su questo mi richiamo ancora a Papa Francesco che nella Messa di questa mattina ha sottolineato nel suo commento al Vangelo come ci sia una spaccatura tra il popolo e i sapienti tra il popolo che nella fattispecie riconosce in Gesù Cristo il profeta venuto naturalmente a salvare il mondo e chi invece tra l'elite, molto bella l'espressione che usa, l'elite, i dottori della legge gli appartenenti alla classe sacerdotale, coloro che hanno studiato, quelli che sanno a un certo punto dice gli intellettuali, loro naturalmente irridono l'ignoranza del popolo pensano che il popolo che segue Gesù Cristo lo faccia semplicemente perché sono degli ignoranti loro i sapienti, i cultori della legge si estraneano dal popolo sono al di sopra del popolo, guardate che è quello che sta in questo momento accadendo c'è un popolo inascoltato che vive in condizioni di precarietà che non sa se potrà lavorare finita questa fase e che non sta lavorando e non producendo il denaro necessario per la sopravvivenza questa parte del popolo che vive nell'incertezza viene totalmente dileggiato da chi invece si sente forte e naturalmente molto acriticamente obbediente alle disposizioni tutti noi obbediamo alle disposizioni per il bene comune però eh non per la salvaguardia solo di se stessi vedete c'è una diversità sostanziale nel rimanere a casa confinati e accettare questo che viene chiamato distanziamento sociale dovremmo riflettere dentro noi stessi lo stiamo facendo per noi stessi o lo facciamo per il bene comune il che significa che nel momento in cui abbiamo consapevolezza di essere dei privilegiati di avere delle opportunità in più ieri dicevo lo stipendio il 27 o la pensione garantita e contemporaneamente però prendiamo anche consapevolezza che la maggioranza non vive questo privilegio questo confinamento non può essere scisso dal turbamento dall'inquietudine che dobbiamo necessariamente avere nei confronti di chi vive in condizioni anche logistiche meno agiate delle nostre c'è chi vive in situazioni estremamente agiate e tra l'altro a questi vengono affidati gli spot che invitano a rimanere a casa credo che l'ho già detto questo sia espressione anche di una palese rappresentazione simbolica dell'ingiustizia perché le cose stanno così la gente distanziata non sta bene non sta bene assolutamente ha bisogno assoluto di avere relazioni di essere ascoltato di poter parlare per questo stiamo realizzando tutti i giorni una proposta di collegamento online ma questo collegamento non deve essere considerato un esercizio retorico della intellettualità ma un luogo del dubbio dove la scienza anche la scienza viene interpretata con quello che deve essere una conoscenza parziale del mistero della vita e quindi sempre caratterizzata dal dubbio non dalla presunzione della verità se noi andiamo con questo spirito possiamo aprire i nostri cuori e perché no anche le nostre risorse finanziarie per condividerne una parte quindi sosteniamo partecipando sosteniamo investendo anche economicamente per tutte quelle realtà che in questo momento si adoperano per non conformarsi alla interpretazione della realtà esistente ma vogliono cogliere in questa drammaticità una narrazione molto precisa che ci invita a cambiare rotta radicalmente e a mettere al centro la vita l'equilibrio ecologico il rispetto della natura il rispetto dell'equilibrio del creato credo che Papa Francesco questa mattina la messa con questa questo invito il rispetto di essere dalla parte del giusto ma essergli vicino in una profonda inquietudine e non rassicurarci di essere dalla parte del giusto soltanto perché noi rispettiamo la legge la legge va rispettata ma soprattutto va rispettato l'amore la giustizia sociale e la disponibilità alla relazione e ancora di più il riconoscimento che ognuno di noi è solo parte dell'universo non è padrone della propria casa fino in fondo perché la abita provvisoriamente perché la casa non deve diventare un luogo di culto ma deve essere un luogo di transito e di accoglienza questo credo che rappresenti oggi una uno seme fecondo che ci deve incominciare a metterci in cammino anche se siamo costretti a rimanere a casa metterci in cammino con lo spirito per poi dare corpo al nostro camminare dare concretezza quindi vi aspetto a tutti gli appuntamenti e incominciamo anche a raccogliere fondi perché tutta quella parte della proposta culturale e delle pratiche che oggi sono in corso non solo continuino ad esistere ma diventino una parte fondamentale di un benessere che deve essere di comunità buona giornata a tutti grazie grazie grazie